Partite, la finale, l'ultima, ecco che subito la numero 12, Laura sta prendendo il largo, sta battagliando tra loro e 19 con le patagliate, questo è un po' sinistra. La nostra autorità è mia, adesso provo a superare la sua destra, la Sofia. Questa è la terza hit per loro, è meglio dire. Stanno arrivando ragazzi, eccola qua. Abbiamo la Laura Bartle che sta controllando il gruppone. Stanno per arrivare con tre primi indiscussa, la numero 1 di questa categoria femminile, la numero 12, Laura Bartle. Grazie, brava, brava, un'applausione ragazzi. E qua abbiamo al secondo posto... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Si muove. Un testa a testa. Un testa a testa. Un testa a testa. E ha vinto Sofia. Vinto, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie a tutti